Salve a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo appuntamento con WWE Supercard ragazzoli siamo qua in questa ring domination di Seth Rollins ragazzoli ma prima di cominciare questo episodio se mi seguite su Instagram avete visto che cosa è successo ultimamente su Supercard ragazzoli almeno per quanto riguarda me è successo veramente una cosa incredibile che non mi aspettavo ma che è successa già almeno un'altra volta in sei anni di Supercard ovvero ragazzoli tre carte Reset Royal Rumble in Draft Board nel giro di 24 ore incredibile ragazzi è successo per davvero una è questa l'altra è questa e l'altra è questa qua ragazzoli non è la prima volta che mi accade ma è successa una cosa simile durante la terza stagione proprio all'inizio della terza stagione era ancora al tier Wrestling Mania ancora quello con le carte blu della seconda stagione nel giro di 24 ore 3 carte Reset Wrestling Mania in Draft Board la prima se non sbaglio fu Chris Jericho la seconda sempre la stessa sera Shawn Michael e il giorno dopo Christian cioè nel giro di 24 ore 3 carte in Draft Board incredibile questa volta è successa la stessa cosa subito Batista ragazzoli c'è il lumino aspettavo ho trovato l'animazione in ring domination vedo l'animazione appare la carta Royal Rumble ok ci sta perché più o meno il periodo è quello aspettavo una carta da almeno 10 giorni ho detto la mia Reset dovrebbe arrivare al più presto possibile però non mi aspettavo che neanche dopo 10 Reset e di Ripristini appunto in Draft Board in Shard Board comunque sto poggiando appunto la ring domination mi appare subito un'altra animazione lì cavolo da parte l'animazione esplode la testa mi esplode e appare lui e il quotidiano c'è what cosa la stessa sera ragazzi la stessa sera Stone Cold Steve Austin incredibile diceva ve l'ho passata tutto il gioco sta male veramente è rotto sbombolato non ha senso per forza così e va bene così ragazzi ho continuato a giocare poi comunque ho finito quasi la carta avanguardia di Murphy che tra l'altro insomma non è neanche male perché è fusione e il giorno dopo stavo ancora giocando per stare in domination e di nuovo vedo che parte un'altra volta l'animazione fiera ragazzoli premetto che ero anche accesso a fare sto gioco ragazzoli vedo l'animazione c'è lo stronzo fa torna indietro ragazzi si volta la carta e appare Shaina Basel ragazzoli terzo reset in 24 ragazzi questa volta anche una diva che da una parte bene dall'altra mannaggia perché poteva essere una potenziale però perché non l'ho presa dalla team Road to Glory peccato peccato ragazzi però ehi tanto blocchiamole che non ancora bloccate non si sa mai ehi 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 però ragazzoli dirla tutta penso che questo quello successo ieri penso che sia una delle migliori sculate su supercard abbiamo avuto in sei anni suppongo proprio di sì comunque ragazzi oggi di carne al fuoco ne abbiamo veramente veramente tanta a parte questo oggi andremo intanto a finire un incontro in money in the bank perché mi manca soltanto un incontro perfetto e finiremo appunto anche la missione oro però signore se avete visto su tutti quanti i social di supercard sta succedendo quello che ormai sospettavamo da diverso tempo ovvero l'inizio la Road to Wrestlemania oppure o meglio come lo dice proprio Voyage to Wrestlemania il viaggio verso la gloria verso la Wrestlemania ed è tutto qua ragazzuoli nero sul bianco sul post sulla pagina ufficiale di twitter sul sito ufficiale di supercard abbiamo Voyage to Wrestlemania signori e qui c'è scritto praticamente tutto quello che più o meno accadrà in giro di questo mese di marzo ragazzi quando uscirà questo video è il primo di marzo uscirà oggi alle ore 3 quindi probabilmente già sapremo qualche altra cosa già direttamente in game però comunque quello che ci racconta il gioco è questo intanto mettiamo una bella carta qua pam cominciamo allora a marzo celebreremo delle grandi leggende sarà possibile ottenere ricompense speciali giocando e beh grazie al cavolo del giocando ci sarà il ritorno di modalità pvp familiare e supercard si arricchirà con nuove attività che segneranno l'inizio del viaggio verso la Wrestlemania ora questa modalità pvp si familiare penso che si riferisca appunto all'elemention chamber maschile suppongo di sì comunque continuiamo a leggere in Voyage to Wrestlemania controllerete il vostro destino come community quindi tutti quanti insieme ovviamente avremo delle missioni complessive consideratelo come un match tag team lungo un mese infatti giocheremo tutti qua c'è tutta la comunità di supercard avrà un obiettivo comune in questo mese su una nave pirati siamo dei pirati al completamento dei determinati obiettivi tutti i giocatori avranno diritto a delle ricompense che rimarranno disponibili solo per un periodo limitato quindi suppongo sia comunque delle missioni come sempre è stato e sempre sarà Voyage offrirà quattro obiettivi ciascuno di essi verrà rivelato sui nostri canali social al completamento del precedente suppongo che sia appunto missioni settimanali quattro obiettivi quattro settimane nel gioco di un mese comunque i treguardi si faranno gradualmente più difficili da raggiungere le ricompense più allettanti cominceremo da cose più semplici e andando avanti sempre più ostili come come missioni e ci stava bene per prima cosa prendendo parte come community a 7 milioni di match wild complessivi ciascun utente otterrà un pacchetto dal negozio contenente 200 crediti 200 league point 200 battleground point e 200 contratti money in the bank il pacchetto resterà disponibili nel negozio 24 ore quindi la community supercard che raggiunge appunto i 7 milioni di match complessivi nella modalità wild solo modalità wild ci sarà questo pacchetto che potremmo ottenerlo appunto nel negozio gratuito per 24 ore quindi cerchiamo di ottenere ragazzi tutti quanti in wild a pescare a giocare il viaggio sarà accompagnato da nuove carte a tema che celebreranno quattro leggende wb wrestling mania 3 potete ottenere di christian boat royal rumble macho master and savage avanguardia tramite eventi fusione accesso giornaliero e altri modi quindi saranno nuove camere fusioni oggetti appunto ingredienti per queste camere fusioni per ottenere queste carte qua i pacchetti in cui è possibile trovare le carte sono ottenibili anche con gli ingredienti fusione dei pacchetti tabellino e il draft che tra l'altro questo mese cioè questa settimana sto trovando anche carte boom in draft board non so voi ma sto trovando carte boom va bene intanto abbiamo completato anche la missione quindi ok continuiamo a leggere più avanti nel mese queste attività si appliceranno alle carte al kogan royal rumble e android giant avanguardia quindi comunque avremo ben quattro carte a tema wrestling mania richieste in bot macho man al kogan e andrea the giant sia royal rumble che avanguardia quindi ancora non stiamo parlando di nessun tier wrestling mania per il momento attenzione comunque tenete d'occhio anche le nuove aggiunte all'accesso giornaliero accedendo ogni giorno nel mese di marzo otterrete ingredienti e per un pacchetto fusione speciale quindi non so se questo speciale si riferisce appunto alle carte che prima ho citato oppure ancora un'altra fusione a sé potrebbe essere comunque beh tanto lo scopriremo a breve eh oggi il 29 giorno esistente dal calendario ma quando uscirà questo è già il primo quindi va bene dettagli ragazzi questo è un calendario segnatevi le date ragazzi comunque vi lascio in descrizione se me lo ricordo ma tanto meno male ci siete poi me lo ricordate dopo nel video che ho scordato quello il link vabbè vi lascerò se mi ricordo il link in descrizione di questo sito se vi segnerete appunto il calendario 4 di marzo debutterà la nuova modalità di Elimination Chamber maschile usate le vostre super sulla divisione maschile per incontri di 6 carte in questa nuova modalità pvp e questo comunque l'abbiamo già visto anche nello scorso update ci sarà questa nuova semi nuova modalità in pvp sono in arrivo anche le fusioni Royal Rumble sorpresa queste carte saranno giunte nel negozio il 6 marzo nel negozio nel gioco il 6 marzo appena in tempo per il Fusion Friday buono quindi ragazzi il 6 marzo tutti quanti a mettere le carte fusione per le nuove fusioni Royal Rumble e mi avete anche considerato di lasciare stare anche il mio Kevin Owen che anche se potrebbe essere una potenziale prova vanguardia fusione però sono comunque due ingredienti per le fusioni Royal Rumble che escono appunto a breve fra 6 giorni praticamente poi il nuovo pacchetto Bounty Breaker sarà disponibile per tutto il mese di marzo e permetterà di ottenere carte Brock Lesnar quindi sarà un pacchetto che probabilmente ci saranno carte Brock Lesnar da una certa rarità fino al Royal Rumble penso che sia quello il senso date da assegnarsi ragazzi questo è il calendario e dovete per forza sapere ogni cosa primo di marzo uscita delle carte speciali Steamboat e Macho Man quindi da oggi che uscirà questo video già potremmo ottenere queste due carte in qualche modo 2 di marzo debutto di Bounty Breaker quindi il pacchetto prima citato 4 di marzo debutto di Mission Chamber 5 di marzo Road to Glory quindi primo evento di questo mese 12 di marzo Last Man Standing what? Road to Glory e Last Man Standing non possono stare insieme una settimana dopo l'altra quindi qualcosa non torna fermi, fermi Road to Glory è appunto la seconda carta di Seth Rollins stavo pensando, stavo già fantasticando su una cosa a sé comunque niente, niente, va bene così ok 12 di marzo Last Man Standing quindi con carta a tema Last Man Standing 15 di marzo uscita delle carte speciali Hulk Hogan e Andre the Giant ricordiamoci questo 19 di marzo Maratona di Road to Glory di 48 ore quindi Flash Event ragazzi e 21 di marzo Flash Event in Ring Domination queste cose ricordatevi per quando c'è un Flash Event succede sempre qualcosa di epico su Supercard ormai l'abbiamo imparato 26 marzo ragazzoli evento da annunciare quindi non so se sarà un evento completamente nuovo quindi proprio inedito ancora da annunciare del tutto oppure sempre un evento di quelli che abbiamo sempre in rotazione quindi non abbiamo ancora citato Giant Alicide potrebbe essere Giant Alicide femminile a questo punto potrebbe anche essere però comunque ancora da annunciare quindi consideratelo ancora qualsiasi cosa non voglio dire che potrebbe essere ancora un evento inedito però magari potrebbe essere qualcosa di a tema Rest Lemania quello potrebbe essere e non c'è altro ragazzi però questo è il calendario intero del mese di marzo è veramente importante veramente interessante c'è tante tante cose in ballo perché una volta finito questo calendario ragazzi probabilmente arriveranno anche le carte Rest Lemania 36 e quindi ragazzi detto questo che era la parte focale di questo video più o meno andiamo a prenderci anche le ricompense di questa missione oro quindi riscuotiamo i nostri 5 ticket abbiamo fatto tutto quanto ragazzi è stata una bella maratona ci manca ancora 12 ore di tempo quasi ma abbiamo completato questa missione se anche voi avete completato la missione oro scrivete qua sotto nei commenti qual è stata la vostra ricompensa di questo pacchetto missione oro noi andiamo a tenerlo adesso ragazzi se non sbaglio dovrebbe essere due superstar o una adesso non me lo ricordo me lo fa vedere però da rarità molto bassa a rarità insomma Royal Rumble speriamo in Royal Rumble ovviamente numero 12 all'interno ci sono anche delle carte all'ena però comunque la scopriremo a breve 3 2 1 c'è l'avanguardia ragazzi all'interno primordiale Natalia e l'avanguardia Bobby Ennan era un manager supporto peccato mi dava una carta diva cioè una superstar e un supporto vabbè quindi niente un pacchetto da dimenticare proprio sì perché almeno se cioè se il supporto fosse stato un supporto doppia statistica anche un po' l'Avanguardia sarei stato super contento giuro però dopo aver preso 3 set in un giorno fa benissimo ok ci sta e vabbè ragazzi a questo punto direi di andare qua in Royal Rumble perché devo ancora finire la carta Royal Rumble sono proprio all'inizio andiamo a rompere qualche altra shard ragazzuoli e andiamo avanti chissà magari non ho ancora giocato potrebbe capitare un quarto reset Royal Rumble è possibile tutto ragazzi ormai non do più per scontato potrebbe accadere perché come ho detto il gioco potrebbe essere veramente sbombolato rotto distrutto evaporato proprio quindi non so magari cosa potrebbe accadere andiamo a rompere queste shard e vediamo se se ormai per quanto riguarda Seth Rollins credo e non non so se lo otterò perché ormai è sabato sera sto registrando questo video manca soltanto un giorno potrei ancora impegnarmi ci sta che potrei ancora andare avanti forse lo farò anche però prossima settimana appunto c'è Rotto Glory non sono all'altezza di competere una Rotto Glory o la Rumble cioè potrei però dovrei spendere penso un sacco di crediti almeno due penso 1200 crediti in minimo qua penso proprio di sì quindi vabbè vediamo un po' di prenderla un po' scialla vediamo un po' cosa succede tanto comunque alla fin fine il deck potente ce l'abbiamo il deck potente quello sì andiamo ancora avanti tanto fra due settimane ci sarà di nuovo una Last Man Standing se puntiamo molto lì direi che comunque potrebbe essere anche una Last Man Standing Diva ci potrebbe stare non lo so però ragazzi sto considerando anche il fatto che visto che abbiamo anche il Giant Unleashed femminile adesso comunque in rotazione negli eventi niente e nessuno scivieta che in futuro magari potrebbero anche aggiungere una Ring Domination femminile ci sta ci potrebbe stare ragazzi se c'è Giant Unleashed è uscito quest'anno Ring Domination c'è dai all'alba dei tempi praticamente un evento perché non aggiungere anche modalità femminile di Ring Domination è possibile ragazzi è possibilissimo ci può stare è possibile me l'aspetto ormai me l'aspetto ragazzoli ne abbiamo un po' di rompeste shard e attenzione oh Shorty G peccato e ormai mi aspetto un'animazione attenzione mi piacerebbe veramente un sacco trovare 4 carte reset nel giro di 48 ore ragazzi sarebbe veramente fantastico non credo ormai accadrà penso ormai cioè non so quante possibilità ci siano onestamente di trovare 3 reset del tuo livello in un giorno mi è capitato veramente 3 anni fa è capitato dopo 3 anni appunto e stavolta non so quanto possa essere possibile c'è il gioco rotto sicuramente direttimo a sottolineare in quanti di voi è uscita nostra del genere penso che sia successo anche diversi di voi ma non lo so il gioco sarà anche come sarà però penso che anche una bella dose di sedere insomma abbia un ruolo importante su questo penso di sì signori ultimamente abbiamo scolato poco però vedi intanto ci sono queste belle giocare attenzione lo doppiatore va bene va bene va bene non so se arriverà un altro un altro shard perché sono maggiori di quelle che possiamo prenderci però niente ci piace trovare nemmeno un altro dai vediamo un po' attenzione vediamo un po' si ritroviamo un po' il faccio del ragazzone no niente mi sa nisba 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 dai andiamo ancora avanti dai 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 troviamo quest'ultima shard e poi penso di concludere questo video perché comunque sto registrando da quasi 20 minuti sta diventando un bel videone però c'era un po' da spiegare un po' di cose era importante farlo in questo video tra l'altro dovrà uscire oggi alle 15 dovrà uscire Dragon Ball Dokkan Battle invece uscirà questa sera alle 18 a questo punto per dare proprietà a questo video perché è più importante c'è molte cose da raccontare in questo video però comunque non perdete comunque il video di oggi alle 18 di Dragon Ball assolutamente no anche quello bellino andiamo avanti ultime 6 shard da rompere forse arriverà anche il massimo il limite delle carte ci può stare per il prima vello vediamo eh vediamo dai 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 e infatti arriva prima vello va bene abbiamo sempre un po' di roba da allenare va bene così alleniamoci le carte in cubo per il momento diamo un po' tutto quanto a lui andiamo un po' se arriviamo a 105 su 105 al momento ragazzi non ho ancora una carta a Royal Rumble che potremmo fare pro non ce l'ho ancora purtroppo purtroppo ancora no con tutte quelle abbiamo trovato abbiamo scolato ancora niente però vabbè un po' ce l'abbiamo vediamo un po' se si accade anche nella prossima settimana e niente per il momento siamo fermi così abbiamo delle carte da allenare sono 10 di sera quindi prendici questo pacchetto tra l'altro oggi 2000 crediti abbiamo buttato il nuovo livello 2000 crediti per il 29esimo giorno di febbraio una carta Royal Rumble o Diva o Pressler quindi comunque se avete 2000 crediti da spendere questo è un ottimo pacchetto perché vi dà la garanzia di trovare una carta del massimo livello in questo pacchetto e 2000 crediti sono poi eh perché ci sono stati tante volte che costavano anche 5000 6000 crediti quasi un pacchetto del genere quindi comunque questo è un'occasione veramente un'occasione andiamo a prenderci un pacchettino vediamo un po' ultimo giorno per trovare carte legacy niente io penso che con te questo video per il momento abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare a parte le missioni che a questo punto come vedete abbiamo tre carte boom tutte le trovate in draft board ma manco questa missione finisce fra dieci ore e nisba non importa ormai per questo beh è da un culo però il viaggio verso un wrestling menu ormai è cominciato ragazzi quindi ormai vediamo un po' quali saranno le missioni che ci aspetteranno in questo mese sicuramente saranno anche i designi da fare in draft board secondo me ci saranno anche quelli da fare forse anche tantini però vabbè sono curioso sono ormai ragazzi di vedere tutto quanto e di finire questo mese per arrivare finalmente a wrestling menu e a vedere quali saranno le nuove carte perché sicuramente ci saranno in questo video vi invito a lasciare un sacco di like se vi è piaciuto noi ci vediamo con il solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti